Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Come state vedendo dalle immagini di sottofondo Partiamo con il primo FIFA Contest Ragazzi è un contest dove regalerò in live 50.000 crediti FIFA ragazzi ad un unico vincitore E farò l'estrazione in live come vi ho già detto E le persone che diciamo avranno commentato questo video e avranno lasciato un like a questo video E avranno scritto hashtag partecipo al contest Io andrò a fare un'estrazione online tramite un programma predefinito insomma Proprio per fare queste estrazioni E tutti coloro che avranno avuto l'accortezza diciamo di lasciare un commento sotto questo video Potranno avere la possibilità di vincere questi 50.000 crediti FIFA Questo è solo per PS4 E ci sarà un unico vincitore Non sarà come l'anno scorso che c'era il primo, il secondo e il terzo classificato Ma in questo contesto FIFA ci sarà un unico vincitore ragazzi Quindi mi raccomando commentate in tanti questo video Se vi interessa, se qualcuno ha bisogno di crediti di FIFA 16 Me lo faccio sapere, vediamo di organizzare un contest Vediamo se ci sono ancora crediti di FIFA 16 Lo so, non servono a molti Però magari se a qualcuno potessero servire Me lo dite, faccio un contest anche per voi Detto questo ragazzi, mi raccomando partecipate al contest Lasciate un bel like, condividete il video Un saluto a tutti e al prossimo video Ciao a tutti